20 novembre 2011, giornata mondiale per commemorare le vittime di crimini per odio transfobico. I governi e le istituzioni mondiali devono costruire politiche sociali e giuridiche per garantire alle persone transgender la vita e non la morte. Assicurare uno Stato di diritto che promuova e sostenga la cultura e la politica a tutela delle differenze. Per una piena affermazione del diritto alla vita e alla salute. Per una cittadinanza alla pari, a quelle vittime a cui è stato concesso di non poter essere altro che vittime, per dar voce a questo silenzioso massacro non si può morire per vivere. Emanuela Di Cesare, uccisa a Pescara il 23 aprile 2007.